In realtà, secondo Istat, nei prossimi mesi l'economia sarà in crescita e migliorerà il potere d'acquisto delle famiglie, ma per le incertezze sul futuro cala la fiducia dei consumatori. Buonasera, allora, euro, spread, populismi, elezioni, incombenti, minacce di divorzio dall'Unione Europea, riflessi sulle borse, sulle banche che chiedono soldi al mercato e una manovra bis forse alle viste con magari nuove tasse. Cercheremo di capirne di più questa sera. Salute e ringrazio Luigi Marattin, consigliere economico della Presidenza del Consiglio. Bentornato, professore. Buonasera. E collegato con noi anche il professor Giulio Sapelli, insegna storia economica e economia politica all'Università di Milano. Buonasera, Sapelli. Buonasera a lei, al Svortatori. Ed è collegato con noi in diretta da Bruxelles, Marco Zanni, europarlamentare del gruppo Europa delle Nazioni e delle Libertà, insomma, Le Pen e Salvini. Buonasera, Zanni, benvenuto. Buonasera, buonasera a voi. L'Italia converrebbe uscire dall'euro? È molto difficile dire questo, sicuramente bisognerebbe cominciare a uscire dalla retorica, mi permetta. Primo luogo non usare più il termine populismo, che non ha nessun senso scientifico, e soprattutto storico. Il populismo nasce nel Nord America, alla fine dell'Ottocento, e poi ha caratterizzato le prospettive, ahimè, alcune tragiche, altre invece non così tragiche, del Sud America. Quindi dobbiamo costruire una logica argomentativa un po' più razionale, e non fondata sulla propaganda e sulla retorica. Ho sentito adesso l'onorevole europeo che ha parlato, se non sapessi che è del gruppo della destra, mi sembrerebbe un... diciamo così, l'avrei preso almeno dieci anni fa per un discorso che poteva essere fatto da una persona di sinistra. Quindi devo dire che il sovranismo è una cosa tutta diversa dal populismo, piuttosto bisognerebbe cominciare a chiederci, prima di cominciare a uscire dall'euro, perché entrare nell'euro secondo me è stato catastrofico, come ci dicevano i grandi economisti nordamericani, cominciare dal premio Nobel Friedman, da come ci ha detto Alan Mischi, che era un grande economista, morto a Bergamo, mai ricordato in Italia, come ci diceva Cardo. Insomma potremmo fare un elenco fino ad arrivare a due premi Nobel, come Krugman e Stiglitz. Quindi non vuol dire che chi ha in mente che con l'euro ci sono dei problemi è un pezzente intellettuale. Spesso ci sono fiordi economisti che ci hanno spiegato che avere un sistema di cambi fissi, tanto più che una moneta unica, con un paese a così grandi differenze di produttività, può essere disastroso. Questo ha provocato squilibri di potenza e di sovranità. La signora Merkel prima di fare quella proposta doveva farla alla Valletta, a Malta, non doveva mettersi in cadde tra lei, perché o c'è l'Europa o non c'è l'Europa. Quindi, first. Seconda cosa, l'euro consente ai tedeschi di imporre la deflazione a tutta l'Europa e adesso con conseguenze tragiche anche con la Germania, perché il surplus commerciale vuol dire che non investe quello che dovrebbe investire in Germania e soprattutto esporta ricchezza europea altrove. Quindi ci sarebbe da fare un discorso molto complicato. Chiaramente uscire dall'euro è molto complicato, è molto difficile. Si potrebbe uscire solo attraverso una negoziazione, una negoziazione di lungo periodo con la collaborazione della BCE. È una cosa molto delicata. È stata fatta una avventata politica monetaria, perché qual era l'idea? Era quella di Jacques Delors e dei regolatori francesi e degli ordoliberisti tedeschi. Tanto che nessuno sa, né il francese né il tedesco, i testi non si leggono più. Ma lì l'idea qual era? Che dopo l'unificazione monetaria sarebbe venuta l'unificazione politica. Invece al posto della unificazione politica abbiamo avuto le guerre balcaniche, che non ricorda mai nessuno, fatte da paesi che sono entrati nell'euro. È crollata l'Unione Sovietica, per cui l'Unione Europea era un frutto della guerra civile europea. Quando crolla l'Unione Sovietica noi facciamo Mastri. Il problema non è adesso uscire dall'euro, è riformare Mastri, togliere il fiscal compact e togliere questa cosa assurda che non c'è in nessun trattato del 3%. E poi non imporre l'ordio liberismus. Perché se ricordassimo un po' Benedetto Croce, infatti di fare tutti gli anglofili, c'è differenza tra liberalismo e liberismo. Tu non mi puoi imporre per Costituzione quale forma di direzione dell'economia o di libero mercato io voglio fare. Quindi uscire dall'euro è complicatissimo. Paolo Savona ci pensa da anni e riflette su queste cose. Ci sono fiori di economisti che possono mettersi lì e ragionare. Ma va fatto con un consenso politico. Non farlo come sta capitando adesso. Con un paese che si sfila e propone referendo. Ma lei si rende conto cosa vuol dire? Ma scusi, ma faccia un ragionamento. Ma come si può parlare di Europa a due velocità con uno squilibrio così? Questo era un annuncio che dovevano fare, se esiste ancora una prospettiva europea, i francesi e i tedeschi assieme. Perché scusi, se il cuore economico dell'Europa è la Germania, il cuore politico è la Francia. Lei sa cosa significa se vincesse la Le Pen, che ha invece delle idee di uscire dall'euro in una situazione di questo tipo, dove la terra francese è separata da quella germanica? Ma sarebbe una catastrofe dal punto di vista politico. Quindi, devo dire, abbassiamo il tono di questa retorica, che non vuol dire più niente. E cerchiamo di analizzare le cose tecnicamente, perché la deflazione c'è. Mi rendo conto che in questa generazione di economisti che non sono deve uscita, che chiama inflazione il 2%, 2% Lei se la ricorda un po' più alta? Ma santo di Dio, ma lei si rende conto di in quale abisso cognitivo siamo caduti?